maestro ho finito piacere olga piacere orlando lei accorda i pianoforti e io accordo i pianisti però l'occorrenza accordo anche gli accordatori la cos'è che si sta difendendo è da un po' di tempo che parlo con un ragazzo che ero ma parliamo un pochino in dialetti così come vedo lei in questo momento ha pisciato dentro la cassa armonica può capitare a un certo punto che un pezzo incastrato male nel tempo faccia storcere il mobile ecco io davanti a me la foto di un mobile storto quindi mi convorrebbe farmi curare all'Ikea ma contro chi stai protestando? Maglera è capitano della fulgure 2019 quest'idea che bisogna insegnare alla musica è la musica che deve insegnare a noi io Potenza la vedo come una piccola Dubai ma sei sicuro? mai stato sicuro di niente non ti risulta? bel ripiego di merda ci campo con quel ripiego a guardarti mo' nessuno direbbe che siamo la stessa persona ti ho salvato la vita ma l'ho fatto per me ma l'ho fatto per me a guardarti mo' nessuno direbbe che bisogna insegnare alla musica ma l'ho fatto per me